Ciao Bez, benvenuti in un nuovo episodio di Ultimate2FTV Allora, oggi ci troviamo Meglio che parlo Piano e lentamente In modo che voi capiate tutte le mie parole Ci troviamo Nelle nostre query Allora, ne ho fatte fare due off camera Questa è quella che ho impostato l'altra volta E ha trovato lava E questa È quella che ho fatto subito dopo E ha trovato lava Però le turtle, come sapete Continuano all'infinito Anche se trovano lava Non se ne fottono altamente Quindi Quindi avete capito Allora Poi andiamo a vedere cosa ci hanno trovato Tutto questo attarto Se cado Non solo bestemmio Ma posso anche imprecare in aramaico Quindi State tranquilli Allora Così non cado E una E due Poi prendiamo la terza Is a beautiful Shift Ti adoro Prendiamo anche questa Qua chiudiamo Prendiamo Questo Meglio che lo prenda Perché costa un botto E la nostra chest A un millisecondo da La caduta più bassa Allora Che cazzo è questo rumore Non so neanche se usare il teleporter Perché l'ho lasciato aperto Molto tempo Quindi Possiamo anche usarli Andiamo a casa Allora Qui una volta Laggava tantissimo Non tanto per i macchinari Ma vedete Cioè faccio 16-17PS qua Ma perché ci sono tutti i macchinari Le modattive Quindi È normale E poi tutte le cose Sapete perché laggava Allora Qui Arrivavi Circa qui Iniziava a Tipo Lug spike Lug spike Non so Ma cazzo si chiama Arrivavi qua E vedevi tutto a scattoni Sapete perché? Perché avevo la macchina delle galline Impostata su start-up Quindi Visto che per le tartose Io chiudo il gioco Si bloccano E Cosa succede? Ogni volta che aprivo il gioco Partiva la start-up Io mandavo Una tartola a scavare La lasciavo là 1-2-3 ore Quello che serviva per fare la query E loro intanto Sparavano Uova Sono arrivato A Distruggere Una spada di questa Questa qua Calcolate 93 Quindi 593 galline Più Un'ascia Di Bronzo Che di sua utilità Non so Quanti siano Quindi Ci saranno state Più di 700 galline Forse Quindi È stato distruttivo E Ucciderle tutte Mi ci è voluto un quarto d'ora Quindi Lasciamo stare Lasciamo stare Allora Gli scontri positivi Di queste 8 query Che sarebbero Due grandi Sono stati 46 Copper Stack di copper Quindi ne abbiamo tantissimo 32 di Tin E sinceramente Rispetto ad altra serie Abbiamo più copper Perché Ferro Solo 27 Due stack di oro Però Ancora pochi 3 di Lead Però Non è proprio indispensabile Quindi non siamo problematiche 64 di gravel 20 diamanti 1 stack E 30 Di tutto Circa Quarzo 2 stack E 3 Perché vi indico il quarzo Perché fra poco Faremo lo smistamento Nuovo Questo va a essere La polveri quarzo Vabbè Forcicium Nicolita Ne abbiamo 24 stack Redstone Tanta Glowstone Non l'ha trovata Eccetera Altro che può trovare Di sopra Può essere Sì Sottoterra Sono Vabbè Tutti questi Questo Smeraldi Non ne ha trovato Manco uno Giustamente Risconti Ne abbiamo 12 Quando troverò Tempo di registrare Bene Cioè Domani Non so Forse è un episodio Un po' strano Domani Ma ok E quando troveremo Anche il tempo Per registrare To take it Iceland Perché O final Non può O io non posso O c'ho impegni Io O c'ho impegni Due In poche parole Ci ritroviamo Sempre All'ultimo momento E quando arriva L'ultimo momento ZAC Arriva L'impegno Imprevisto Qua la quarry L'ho fermata Perché Perché Non avevo più voglia Di farla continuare In poche parole Mi si era Chiuso al gioco Mi si è andato in palla Con Black Ops 2 Non so perché In poche parole Volevo fare un episodio Di Black Ops 2 Sulla modalità zombie Per sbaglio Non so che cacchio È successo Il mio computer Ha capito Che doveva aprire Tre Finestre di Black Ops 2 Zombie Boh Inizio a fare il video Su Black Ops zombie Senza saperlo Eh Ne avevo aperta una Si è aperta una E Senza saperlo Entra Tranquillo Va dentro Faccio partire Il caricamento Si blocca Bestemmie Perché avevo FTB sotto Con la quarry andante Quello con le tartor E il bello Non vi dico Perché erano sopra Un lago di lava Quindi se si bloccavano Era una merda Più assurda E E allora Parte Tranquillo A un certo punto Blocco Ci ho messo 10 minuti A sbloccare Il computer Parte E ora E vedi sotto Steam Che parte Avvio Black Ops 2 Zombie Ancora No Chiuditi Vedi che parte Mi tocca chiuderlo di nuovo Altri 15 minuti E E poi faccio Beh adesso Non puoi ripartire Un'altra volta Vado fuori Riparto Un'altra volta Tu Stai scherzando Spero Perché sei un bestemmio Spero E quindi Alla fine della fiera Morale della favola Il video di Black Ops Zombie Andrà Lo farò Più avanti Quando ho tempo Sempre di registrare Perché Anche se Ora ho finito Da adesso In poi Come ho detto Possiamo fare Tutti gli episodi Che vogliamo To Tech Deathland Sarà un po' Più complicato Perché dobbiamo Trovarci Final Visto che Final Ha gli orari sballati E Nel tipo Io ho gli orari liberi Da Tipo Adesso In giù E lui Da adesso in su Eccetera Eccetera Ehm Non ci troviamo mai Il tempo Io sto andando in giro Perché devo capire Una cosa Quello che devo fare oggi No scherzo E quindi Non ho orari Di tempo Uguali Ma ok Ehm Ho bisogno Di un jetpack Quindi oggi Facciamo un jetpack Perché non posso andare avanti Senza Jetpack O se no Possiamo cominciare Lo smizzamento chest Si dai Cominciamo Lo smizzamento chest Perché non è possibile Andare su e giù Come dei coglioni Cosa devo fare? Ehm Ehm Quindi Come vi ho detto Faremo Ehm Cosa mi serve? Access point? No Questo non mi serve Access termina What is fun Questo come cazzo Si Ok Allora Non avendo tempo Quella là Sarà un po' più complicata Che venga fuori Forse tutti i giorni Speriamo di fare Una specie di Mega 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 Episodio E Del tipo Lo usiamo sempre Va fan brodo Va fan bene Ehm No Mega Registrazione No E mega Episodio E così Siamo a posto Per un bel po' di tempo Ma ok Allora Se vi state domandando Perché sto cominciando Un nuovo smizzamento chest È Perché Uno me l'avete consigliato A voi Uno Uno di voi Uno di voi Sì Uno di voi A cazzo Ehm Cosa che mi serviva anche Ah la polvere Ok It's a beautiful life Never meet you Che cazzo Ok basta E quindi Sto facendo questo qua Ormai L'avete visto un po' Su tutti i youtuber famosi Ma Su due E yuk Su tre Dai Però Lo faccio anch'io Così Me l'avete consigliato Quindi Cazzi e massi Ok Questo Facciamo un paio Perché servono tutti Questi Con 5 Magari la teniamo Dentro come Crafting Normale Perché Se no La voglia Allora Quarzo Quarzo Poi com'è Ferro Bom bom Ho tutto Circa E quindi Per quello Ok Poi per black ops Volevo dirlo su black ops Ma lo dico qua Per chi volesse giocare Insieme a me Quindi Vi piace vincere facile Su black ops Che avesse black ops Può mandare un commento Sotto al video di qualsiasi black ops Non questo Perché se no dopo facciamo confusione Con O anche un messaggio privato Che sarebbe anche forse meglio O col vostro nome steam In modo che io vi aggiungo su steam O mi dite Voglio giocare con te Dammi il tuo nome steam Io vi do il mio nome steam Capito? Ok E in modo che possiamo giocare insieme Ci troviamo Possiamo fare anche video insieme Se avete un microfono Possiamo parlare insieme Mentre giochiamo Eccetera Qualsiasi modalità Zombie Multiplayer Quello che volete Basta che giocate Perché mi annoio da solo Come cacchio si fa A fare questa roba Eh sì Grazie Grazie al pene E questa? Ah Con la polvere Semplice Naturalmente Ho buttato via il vetro Prima O Avevo tipo Uno stack di vetro Che fine ha fatto? Magari aveva una chest Supplementare L'ho messo via su quello Scomparso Scomparso Di cacchio è il vetro Da la vetro Ho proprio uno stack di vetro Vogliamo parlarne? No Giusto Per Perché Cos'è? La barrel Che è andato in tega Beh Vabbè La barrel E' andato in tega D'accordo Andiamo qua Facciamo Sti cacchio di cavi Boh E ce ne fa quattro Che merda Sono pochissimi Contento? Sono pochissimi Ok Così Così E ci troviamo Sti cavi Va bene Serve uno per il momento Quindi Amen Quindi come dicevo Se volete giocare con me Ci divertiamo insieme Perché Mi annoia giocare da solo Contro persone che non conosco Vabbè Non do più senso Perché anche voi Non conosco Però almeno Parlandoci insieme Giocando insieme Ridiamo Eccetera Tanto Se giocate contro di me Vi piace vincere Fate Se giocate con me Perdete sicuro Quindi Valutate No Non credo che perdete Se siete dei pro Dei pro sniper E Cosa c'è di altro Questo 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 per forza Vaffanculo Diamante Ehm Oh Va avanti It's a beautiful life È per questo Che ho aspettato A fare questo Smizzamento chest Perché È abbastanza Costosetto Non per dire mai È abbastanza Costosetto It's a beautiful life That'll leave you Ha Avere un bel impianto Veloce Qua È molto Bello Farò anche Il singolare T-compressor Fra poco E l'estractor Anche se non serve Moltissimo Ma Non si sa mai Ehm Il mio coso Qua Ok Questo è un doppio senso Ok Guardate Quarzo Che buttate Nel cestino Vabbè che serve Solo a questo Solo a dettagli Poi cosa mi serve Una chest Anche no Ho sentito Che basta fare Solo questo Quindi possiamo Fare anche Solo questo Allora serve Questo Questo Quarzo sicuro Ci scommetto Che serve Il quarzo Non è questo Non serve Il quarzo Strano Però serve Uno sti qua Che costano Il triplo Del quarzo Ok E una chest La barre Della chest L'ho fatta Mi sembra di sopra Mi sembra Eccole qua Quante ne ho dentro Ah una Lol Lol Allora Otto What the fucking pro What the fucking pro Let's do it No Non si fa così C Ehm Ok It's a beautiful life Let it beat your heart La bella vita Che canzone è Cantato di merda Ma che canzone è Ehm Magari facciamo altri Cavetti Giusto per Questi qua sono quelli giusti Bene Bene Allora Dove metto Intanto Il Coso Lo smittamento Chest Dovrei metterlo qua Quindi No Questo no Ho uscito qua Perfect E questo È il controller Però no Non fusse Non fusse Perché non fusse Perché dove Dove avere il controller E anche energia Quindi A qual è che devo dare energia Aspetta A questo Quindi Devo pensarla A questa Perché Ok ok Ho piaciuto Sono troppo veloce Sì ma non bloccarti Così Scemo Allora Piazziamo Questo Magari Faccio il buco sotto Così posso portare Su l'energia diretta Tanto i cari Questi qua Quindi Cazzo di problemi Mi faccio Basta portare su I Cazzo di cari E Averli Averli Allora Gomma Sì ce l'ho Perché ho preso anche Vabbè Amen Tre in più Non danno male Non vanno a male No Sono andati a male Bene Allora Così Così What the fuck Boss Ma ok La bella vita It's a beautiful life Che canzone è Che canzone è Bisogna dire alle persone Dovrebbe funzionare Nare Yes E questo De cazzo Piazziamo qua Posso piazzarlo qua Sì funziona anche così Ma non mi piace così Lo volevo piazzare in un modo diverso E lo piazzerò in un modo diverso Allora Sarebbe da fare una cosa del tipo Portare tutto di sopra O se non O se non fare una cosa del genere Sta prima Noll Ok Qua funzionante Qua è funzionante Ma porca Dove ridere Questo qua bisogna Vedete che Collegati questi Ok Cosa ci serve ora Ci servono Delle M No Storrage Devo fare Storrage Queste Allora Ci sono quelli da 16 Quelli da 3 Da che cazzo è sta cosa Beh Da 4k Che cazzo cambia 64 16 O 1 16 Cosa ci vuole per far questo E boia Facciamo quell'idea 1 Esatto Perché tanto oggetti Andiamo pochi Questo come si fanno Madonna Putta E Facciamo altri 5 4 D'accordo Come vuoi Dai Funzi Funzi Ok Allora Il timer sta per suonare Mi sa che lo continueremo Alla prossima volta Però Abbiamo l'inizio almeno Come si fa questi Ah ok Non è che mi serve qualcos'altro No Solo questi Ok Quarzo e redstone Quarzo e redstone Quarzo non ce l'ho più Ma è qua Pensavo di Di sprecare più roba Sinceramente Invece Ecco E Tomare Quanti buchi ha questo Dieci Vabbè Noi ne abbiamo fatti sei Basta Ok Mi serve del vetro Che non ho Ok Finisco un attimo Poi lo spiego Nella prossima puntata E' un altro timer Così Così Magari il vetro Lo teniamo qua Poi del ferro Che Ora abbiamo LOL E poi questi qua Che cazzo è qua? No C'è qualcosa qua Boh Vabbè Intanto Bene Ciao Allora Queste qua Non sono accumulabili Sono batterie Sì Sono memorie Sono hard disk Li mettiamo qua dentro E ora abbiamo 6 hard disk E ora qua Possiamo buttarsi Tutto quello che vogliamo La funzione La prossima volta Quindi Per questo episodio è tutto Da DJ Linea allo studio Grazie a tutti